Sono Mauro Badaracchi, un tiratore olimpico del Centro Sportivo Carabinieri nella specialità di pistola e partecipo anch'io con l'Unione Italiana di Rassegno a questo progetto Scuola Aperta allo Sport. Credo che lo sport nelle scuole sia fondamentale, innanzitutto perché permette ad ogni studente di provare nuove discipline, nuovi sport, di muoversi, di fare attività fisica, di divertirsi e socializzare con gli altri compagni. In più credo che sia davvero importante per far capire ad ogni studente, ad ogni persona, ad ogni atleta l'importanza del sacrificio, l'importanza del rispetto degli avversari, di se stessi, del no al doving che è molto importante. Quindi credo che lo sport debba entrare molto di più nella vita di tutti i giorni, di ogni studente. Scuola Aperta allo Sport, mettiti in gioco e entra in palestra con i campioni. Ciao!